Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Clash Royale Prima di tutto devo farvi vedere un sacco di cose nuove In primis non so quando starete vedendo questo video ma vi spiego subito il motivo Allora ragazzi sono andato a registrare lo speciale dei 25.000 iscritti barra 30.000 iscritti Perché non so quando lo pubblicherò, mi servono ancora delle parti Ho fatto tipo 4 ore di escursione in posti allucinanti, sarà uno speciale allucinante Soltanto che mi ha portato via davvero tantissimo tempo perché tra il viaggio e tutto il resto Era praticamente impossibile riuscire a fare video tra romics più che altro Quindi è stato davvero un insieme di cose che non sono davvero riuscito a sistemare Oltretutto, cosa fondamentalissima direi Questi, cioè cazzo che manca ragazzi mancano, ehi mancano le cuffie Sì perché dopo le ultime leggendarie hanno fatto finacce Fetti insomma che sono smesse bene Vabbè fotte e sega, per ora registriamo con queste qua Poi è caldo, è un caldo bestia E quindi via Scusate se magari il mio tono di voce non sarà proprio quello solito Ma sono reduce da giornate abbastanza faticose Tipo stanotte ho dormito due ore E quindi vabbè, dai, dai, dai così Allora il deck che andiamo a utilizzare oggi è molto molto particolare Sarà il deck con il mortaio e il log rider come carte principali Stregone di ghiaccio immancabile Non so come cazzo faceva a non utilizzarlo Cioè è davvero qualcosa di fantastico Cioè andiamo a fare qualche partita molto veloce Così di fila Per farvi vedere questo mazzo è molto interessante Va migliorato perché in alcuni aspetti è ancora un po' debole Ma è, fidatevi, un deck che se gira gli spacchi anche l'anima Allora lui ha fatto questa grandissima tecnica Non so per quale motivo E poi si parte col domatore dall'altra parte Perché lui adesso è incasinatissimo Cioè lui ha lasciato libera sta torre Io gli avevo massacro di botte ma proprio malissimo Vabbè, fotte seca che mi ha messo sta roba qua Io ti spacco così Stregone di ghiaccio a dar fastidio E soprattutto goblin Cioè, ciao Ma ciao, ciao, ciao Va, grazie di tutto, ma no È mostruoso Bim, lo stregone di ghiaccio è neanche un hit Neanche un hit lo stregone di ghiaccio allucinante E questo dobbiamo spaccargli il coso L'estrattore di lisirmi sta sul culo una cosa allucinante Quindi giù di... Ah, porca miseria, peccato, bravo Cucciolo di drago, gli dobbiamo spaccare il cannone, dà fastidio Ok, molto bene Spacchiamogli quell'estrattore di merda No, 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 rore, rore, rore Ah, ah, oddio mi sono salvato supermi tutta la cuffia Porca miseria Oddio, oddio, ho visto tutto Ok, dai, ha finito l'estrattore, bene Abbiamo di nuovo tutte le carte migliori a nostra risposizione Che palle sto bombarolo Eh, so, via Ah, tanto non ti prende Eh, però lui mi va a tancare sicuramente il bombarolo Fotte seca Mmm, facciamo un'azione tranquilla Stregone di ghiaccio Che è onesto per ora Lo stregone di ghiaccio è onesto Lui parte con queste cose Non so perché fa queste grandi cazzate Cioè ok mi ha fatto 1600 di danno Però insomma Cioè ti potrei andare meglio secondo me Vim Questi E poi ci devo mettere anche questo Sì 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 Molto molto buono Cioè è esploso Ok però Lui intanto lo massacro male di botte Bravissimo Adesso con lui E anche lui Giù Mena Forza fagli male Ah porca miseria No 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 Mi fa male mi fa male mi fa male un sacco Mi fa un sacco male Ma proprio da tanto a bestia Vediamo Questo Si difende bene Lui si riesce a difendere Questo mazzo È abbastanza difendibile Ciao Hog Rider Loro Porca miseria che fortuna però Eh c'ha tutte queste difese Ecco l'unico mazzo che forse può dare Da fastidio Sono quello con le difese Perché dà oggettivamente un sacco di fastidio Madonna Un urto di nervi allucinante Ok va bene così Buono Molto molto bene Io partirei col draghetto qua Si 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 Draghetto Questo Perfetto Tanta roba E poi ti parto a destra Perché tu a sinistra Sì Sì Ha quittato il ragazzo Giù Uccidilo 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 Grandi così Grandi così Ci andiamo a prendere tutto Ci andiamo Andiamo a comandare Qua fuori Grande Bella partita Notevole di livello 18 Ma dè ma che è sta roba 18 trofei Va bene Fotte sega Va bene Ci siamo Ci siamo Ci siamo Il deck c'è Ero sceso un po' di coppe Avevo perso qualche partita A cazzo Va bene Ci siamo No è onesto Risultato onesto Abbiamo vinto Adesso ci andiamo A provare di nuovo Un altro mazzo Lui probabilmente Non so perché Ha smesso di giocare Però Si si vedeva Era palese Che aveva smesso di giocare Via Casetta dei barbari Non è un problema Di certo Mortaio Dobbiamo difenderla Per ora qua Siamo difesi bene Io voglio te Scelgo te Si ciao Perfetto Grande Il draghetto morirà malissimo Lo massacro lui Io Cioè lo massacro a lui male Goblin Giusto per dare un senso A tutta questa azione Domatore cinghiale E poi ci mettiamo Un altro cosi questi Perché adesso Ah porca miseria Ok questi muoiono male Ci siamo Molto molto bene Qualche hit Qualche hit Giusto qualche hit Però è notevole buono Mi piace Adesso devo metterci anche la valchisi La il mio carissimo Bello Lo possiamo portare al 6 Tantissima roba Non so se noto Se faccio Notare la cosa A livello 6 Tanta roba Questo è a livello 8 Che Vai così Vai così Vai così Inizia a fargli male Inizia a fargli molto male Beh no no 1300 Buono Ha preso un sacco di danni Ha preso un sacco di danni La sua torre A 1300 E adesso possiamo ancora Infierire 1200 Forza 1100 Ancora così pesante 900 868 Di danno Interessante Allora non abbiamo roba per difenderci Dobbiamo mettere i goblin qua Facciamo deviare le difese E va bene Poi Aspettiamo Che cosa può fare lui Oh questo Mi sta Mi da un fastidio notevole Stregone di gaccio Questa cosa mi sta dando abbastanza fastidio Dobbiamo intervenire subito Domatore Hog rider Oddio che spettacolo Il richiamo dell'hog rider Qui dobbiamo spaccare un po' di roba Ok Mi piace Drago Ciao 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 Così Ciao così Spaccaglieli tutti Spaccaglieli tutti Spaccaglieli male Spaccaglieli male Spaccaglieli male Loro Perfetto Ma porca miseria Ma come si fa Dai Cioè sono un sacco forti Sono davvero un sacco forti Io se lo voglio mettere un po' più dietro Frecce Ma sapete perché? Quel motivo che gli tolgo un po' di vita E poi così Lui e lui ancora Molto molto bene Con le casette è difficile giocarci contro Eh ragazzi Voglio il domatore di cinghiale E voglio un altro mortaio in avanzata Vai così Vai così Fagli male Il drago è buono Abbiamo spaccato questa Non è finita Dai Lancia un hit Lancia un hit Lancia un hit Sudden death Ok la prima volta che ci andiamo Siamo messi molto molto meglio di lui Voglio uno grider Attento questo lo sistemo io No peccato Porca miseria peccato Un hit glielo dai Ok devo utilizzare le frecce perché se no me lo spacca male Chaff No si difende Si difende molto bene il ragazzo qua eh Si 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 sa difendere molto bene Lo devo ammettere No è bravo È bravo per carità Perché ha fatto Ha usato le casette In modo tale da difendersi Dalle mie stradigie di attacco E per carità Tanta roba eh Chapeau Non vi muovete Non vi muovete Chaff 400 sono Mortaio Che palle Dai non è possibile E dobbiamo spaccar male Scontro termina tra pochissimo Non dobbiamo fare Eh non ce la facciamo Si Aspetta Ss Zitti 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 Dai Dai Si Andiamo Andiamo a vincere anche questa Lo scadere Forza così Forza davvero così 31 troffa i bauri L'argento E molto molto bene All'ultimo secondo Che spettacolo Grande grande partita questa eh È molto forte Hai una difesa davvero interessante Con sto mazzo E riesce a fare roba buona Molto molto bello Molto molto forte Mi piace un sacco sto mazzo eh Adesso Ultima partita Dai se vinciamo anche questa Facciamo 3 su 3 È tanta roba È tanta roba È molto forte sto mazzo Mi piace un sacco La prima volta Poi che riesco a vincere partite Registrando Che è tantissimo Ok lui ha messo L'estrattore dell'isir Io potrei partire Secondo me Subito con un mortaio Che non dice nulla E poi lo graderà Da sinistra Così lui è disorientato È attaccato su tanti lati Bim Bravo si è difeso ben Per carità Però i danni li facciamo E li facciamo davvero Ciao Grande Andiamo a difenderci Come possiamo Non ci difendere Eccolo là Errore Errore mio Errore grave Errore grave Che ho fatto Errore molto molto grave Errore davvero davvero grave Cazzo cazzo Eccolo qua Lui tanto si prenderà A cura del barbaro E poi gli andiamo a massacrare A questo Quindi gli abbiamo fatto Buoni danni Alle torri Sono contento Di come sta andando La partita Vai Vagli a tankare Fagli un hit Fagli un hit Sì Gliel'ha fatto un hit Davvero molto bene Sono contento A lui è al cosa A livello 6 Dobbiamo fare un'azione Del tipo Eccola Barbari Per massacrargli male La stronza Grandi Così Indietro Un po' che indietro Ok perfetto Lui mette No 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 Ah peccà Che palle Porca miseria Prego uccidetelo Uccidetelo male I barbari hanno Meno potenza di fuoco Ovviamente Utilizzare già Gli abbiamo fatto male Con il mortaio Ok è finito Perfetto Molto molto bene E adesso partiamo Con il domatore No Aspettiamo Eh aspettiamo Perché lui ci fa male Cazzo Porca miseria Ci fa un sacco male Ci fa tanto tanto male Eh sì Vabbè Fotte sega dai Qualche danno Lo dobbiamo perdere Abbiamo presi tanti Tanti Troppi 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 danni Ci ha fatto davvero malissimo Questo cosa Ma noi gli facciamo Altrettanto male Sì Gli abbiamo fatto molto male Grandi Bravi Drago Fotte sega Perché devo utilizzare Le frecce Ho il drago E gli vado A spaccare Di nuovo La torre Quindi così Ha messo giù I cosi Non differente Hip Bim Come mi difendo Non è facile La questione adesso Non è per niente facile Devo utilizzare Frecce Ah porca miseria Il drago L'abbiamo massacrato male Questi voglio L'abbiamo massacrato male Tutti Molto molto bene Sì 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 C'è 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 la questione c'è La questione c'è Ci siamo Ci siamo pesanti Ci siamo pesanti Va bene ok Ci siamo Ci siamo Questo lo massacri E massacriamogli anche quella Di nuovo questo Di nuovo Dai che il massacriamo Bene Voglio utilizzare le frecce Per il semplice fatto Che gli Eccolo là Sì sì Ci siamo Ci siamo ragazzoli Ci siamo Dai dai unit Dai unit Ciao 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 Grandi Bravissimi Quante coppe abbiamo fatto Abbiamo fatto tipo 70 Quasi 80 coppe All'incirca Quasi 80 coppe Molto molto bene Sì è un deck È molto bello Mi piace un sacco Va migliorato Bisogna portare questo A livello 6 Bisogna trovare magari Una nuova conformazione Però in linea di massima Ci siamo davvero tanto I barbari servono in difesa Se lui è l'hard rider I barbari sono fondamentali Costano tanto È vero Però Fantastici Molto molto bravi Molto 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 bene Peccato Abbiamo trovato chest A livello Aprirò una Cosa Una chest così veloce Senza La gemmiamo a fare Bene bene Molto bene Deck Fantastico Provatelo Fatemi sapere Nei commenti Se volete Che io provi Magari altri deck Per voi Se avete qualche idea Qualche altro mazzo Che io possa provare Giù nei commenti In tutti i casi Spero che questo video Vi sia piaciuto Scusate ancora Per il ritardo Ma fidatevi Il video Che poi Uscirà Ne vale Davvero La pena Ne è valsa La pena Stai una figata Allucinante Ah un'altra cosa Domani 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 Videone Su minecraft Ita quinta stagione Da non perdere In tutti i casi Per questo video A tutti Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo lasciate un bel Mi piace Se vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se avete già fatto Di condividere il video Su facebook E farmi lasciare Nelle persone Mi raccomando Passatevi in descrizione Facebook e Instagram E diciamo come al solito